Ciao amici di Tariato Games, buongiorno, venerdì 5 maggio e sono qui come tutte le mattine a parlarvi di eFootball 2023. Vi dico subito che oggi non ci sono grosse novità, ci sono grosse mancanze sicuramente, e comunque vedremo tutto in dettaglio in questo video che non durerà tantissimo, ma parlerà di un po' di cose differenti. La prima è che ieri, mi sono scordato, mi dovete scusare, non l'ho visto, fra le tante cose c'è una nuova campagna di Football Points, una campagna Facebook, non si sa bene perché Facebook. Comunque ci sono altri 500 punti Football in regalo che prima schifavate in tanti, adesso con il rinnovo dei contratti schifate un po' meno. Quindi sappiamo che con i punti Football si possono prendere un rinnovo contratto da 60 giorni, ci vogliono tanti punti, lo so, però ragazzi vi riconfermo per l'ennesima volta che a differenza di PES, a differenza di FIFA, dove da un anno all'altro si perde tutto, che abbiate scioppato meno, è così, si perde tutto, qui dopo 365 giorni, e sono 365 giorni, non è che per dire scioppate qualcuno a febbraio e a settembre non ce l'avete più, qui sono 365 giorni. Potete rinnovare qualche contratto di qualche giocatore dei giocatori più importanti, quindi, come dire, per me è un passo in avanti, forse l'unico sostanziale passo in avanti di Football, e quindi avete la possibilità di rinnovare i contratti dei giocatori con i punti Football o svincolando i giocatori speciali a 5 stelle. Se avete difficoltà a trovare il link, me lo chiedete nei commenti e ve lo giro subito, sono 500 punti, non sono tantissimi, però in questo periodo di campagne con punti Football ne sono arrivate parecchie. Poi, altro consiglio che vi do e che potete utilizzare, cercate di fare il vostro account di punti Football e di loggarlo su tutte le versioni del gioco, perché alcune campagne, fino a qualche tempo fa, si potevano fare su più versioni. Adesso sembra che questa cosa l'abbia un po' chiusa con Ami, però io vi dico, voi mettete tutti gli account con lo stesso login dei punti Football, che non si sa mai. Io l'ho loggato da tutte le parti, ogni tanto vado su PC a vedere qualcosa, ogni tanto vado su mobile, ci fosse qualche campagna particolare, mi logggo da tutte le parti e vado così. Comunque, sicuramente ci sono questi 500 punti Football, vi ho mostrato ieri che forse, sottolineo forse, potrebbero arrivare delle nuove leggende il 18 di maggio, perché Kohler e Cannes si spariranno dal negozio dei punti Football il 18 maggio, staremo a vedere quello che succede. Poi ragazzi, ovviamente, penso che lo sappiate, il Napoli ha vinto lo Scudetto, questo non è un sito di calcio, quindi io mi limito a mostrarvi queste due bellissime immagini, questa è del Corriere della Sera, e questa è la Gazzetta dello Sport, un po' differenti, ma diciamo nella struttura sono simili. Non mi metto a parlare di calcio neppure oggi, mando solo un pensiero a una persona, a un ragazzo giovanissimo, che ha poco più di 20 anni, che come me è tifoso, anzi tifosissimo del Napoli, a tanti chilometri da Napoli, sulla costa orientale italiana, al centro, anche lui abita nelle Marche. Questo ragazzo purtroppo è in coma dallo scorso agosto e niente, magari tutta l'energia che ieri è esplosa a Napoli, ma in tutto il mondo magari gliene arriva un po' nel suo letto d'ospedale. Ciao Yuri, forza. E comunque, basta parlare di scudetto del Napoli, parliamo di football, perché, come dire, abbiamo visto ieri sera nell'account ufficiale del Napoli che lo scudetto, che ha dato la certezza matematica dello scudetto, è stato celebrato su Twitter con questa piccola animazione. Victor Rosyman, gol, 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 i football 2023, la grafica che vedete non è l'osyman reale, è quello del gioco Konami di football. Quindi tutto bello sarebbe, uno dice, e invece non proprio, perché sull'account ufficiale invece di Konami non c'è niente di niente sullo scudetto del Napoli. Qui abbiamo il tweet fissato in alto, qui abbiamo il tweet per i giocatori leggendari del Barcellona, poi si scende, qui c'è la Coppa di Football Italia, e sullo scudetto del Napoli non c'è nulla. Ora capisco che questa è una settimana di festa in Giappone, però sai, hai una squadra partner, si è parlato tanto, al di là poi dell'aspetto sportivo, anche mediatico, diciamo, di questo scudetto, che non ci sia traccia di tutto questo è abbastanza incredibile. Speriamo che siano solo in ritardo, come si suol dire, come direbbe Massimo Troisi, speriamo che Konami chieda scusa per il ritardo, scusate il ritardo, per il momento vedremo, vedremo cosa accadrà. Vedremo, vedremo, qualcuno già mi ha chiesto, ma ci sarà qualche cosa? Ragazzi, io non lo so, non sono in casa Konami, non so che dire, di certo sarebbe il caso di celebrare in qualche modo con un pool, con un evento, con magari Maradona, con la maglia del Napoli, che vediamo da mesi, come vediamo da mesi Adriano e Totti nel database del gioco, potrebbe essere il momento giusto. Ovviamente, ragazzi, io vi aggiornerò su tutto, indubbiamente, e se ci saranno novità ve le proporrò, però ad oggi, purtroppo, non ce ne sono, ed anzi, ed anzi, Renan Galvani, in questo caso, ben prima di me, ieri sera alle 11 di sera, ovviamente in Brasile era qualche ora prima, scrive Napoli, campione d'Italia dopo 33 anni, club partner di Konami. Konami in questo momento, e qui c'è il mitico Daffy Dac, che dorme come pochissimi. E ragazzi, è un po' incredibile tutto questo, per l'ennesima volta. Staremo a vedere, ripeto, se ci sarà una ripresa della situazione fra qualche giorno, con, ripeto, qualche campagna celebrativa, lo scorso anno, in effetti, è stata celebrata la Roma, giustamente per la vittoria della Conference League, staremo a vedere, e anche altre squadre partner che hanno vinto lo scudetto nei campionati, vedremo, vedremo quello che accadrà da qui a qualche giorno, massimo qualche settimana, perché dopo, se no, non ha molto senso. Ultimo elemento, ragazzi, se siete tra i fortunati ad aver pescato nei Marbig Time, Romario Epic, Eddie Milson Epic, ragazzi, qui il Football Hub vi dà i suoi consigli su come livellarli, se vi interessa, così Neymar arriva a 101, Romario arriva a 100, Ed Milson a 96, Ed Milson puntano molto sulla difesa, e staremo a vedere, staremo a vedere quali saranno i prossimi Big Time ed Epic, torneranno anche i giocatori della settimana non riciclati, come è successo ieri, che è veramente un pool davvero poco interessante, almeno per quanto mi riguarda. Va bene, ragazzi, per il momento è tutto, io vi do appuntamento sempre, ancora, per qualche giorno, con un doppio appuntamento del campionato, vediamo se prima della fine della fase, manca poco, si riesce ad arrivare in divisione 2, si lotta, si lotta, e non si molla. Ragazzi, vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana, ma ovviamente ci risentiamo domani mattina, domenica, con il giro gratis di questo pool riciclato, e con tutte le novità che possono arrivare su e-football, e speriamo che anche su UFL, FIFA, e-sport FC, si muova qualcosa, perché da tanto, da tanto che non succede davvero nulla. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Ciao! 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 Grazie.